Abbiamo scelto Pescara per far svolgere il gistetto della cooperazione internazionale, immaginate con quello che sta succedendo nel mondo quanto è importante la cooperazione internazionale per aiutare la gente che soffre non soltanto nella striscia di Gaza ma anche in Africa per realizzare il nostro piano Mattei. L'Italia ha l'onore e l'onere di guidare i paesi occidentali e i paesi più industrializzati e a Pescara affronteremo temi di grande importanza. Abbiamo scelto Pescara perché questa città lo merita, perché l'Abruzzo merita attenzione, merita che i riflettori siano accesi non soltanto in campagna elettorale ma 365 giorni l'anno. Vedete, noi siamo qui tutti uniti, il centro-destra, per dare un messaggio chiaro alla gente d'Abruzzo che noi c'eravamo, ci siamo, ci saremo, non soltanto in campagna elettorale. E questa sera c'è con noi un signore che ci sta sorridendo, che ha fatto anche qualche comizio in Piazza Salotto, che ha amato l'Abruzzo come se fosse la sua terra. Quel signore ci guarda di lassù, è Silvio Berlusconi. Grazie. 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 Grazie.